La Corte Suprema russa annulla la condanna a tre anni di carcere nei confronti dell'oppositore, il Dardadin. L'attivista vicino al leader del movimento anti-Putin, Alexei Navalny, è stato il primo cittadino russo ad essere condannato, secondo la controversa legge anticorteo. Per la Corte Costituzionale russa, però, la violazione deve essere considerata come un'infrazione piuttosto che come un reato, una revisione che ha spalancato la strada alla decisione della Corte Suprema. Nel 2015 Dadin era stato arrestato e successivamente condannato a tre anni di carcere da un tribunale di Mosca per proteste di piazza, senza permesso. Il procedimento penale era stato innescato dalla sua partecipazione a una manifestazione a sostegno di Navalny e suo fratello Oleg sulla piazza del Maneggio di Mosca. L'esponente dell'opposizione sarà probabilmente rilasciato dalla colonia penale di Altai, al confine col Kazakhstan, lunedì prossimo.